Cartier Privé per uomo, esclusività e eleganza nell'orologeria di lusso. Il Cartier Privé è una collezione esclusiva di orologi da polso Cartier che rappresenta l'apice dell'artigianato e del design. Questa linea è dedicata a chi cerca l'eccezionalità in un orologio da polso e desidera indossare un pezzo di prestigio. Esaminiamo in dettaglio le caratteristiche del Cartier Privé. 1. Design unico e innovativo. Il Cartier Privé è caratterizzato da un design esclusivo e innovativo. 2. Materiali di alta qualità. Cartier utilizza materiali pregiati come l'oro, l'acciaio inossidabile e il cuoio di alta qualità. 3. Movimento di precisione. Ogni orologio Cartier Privé è dotato di un movimento di alta precisione che offre una misurazione impeccabile del tempo. 4. Esclusività. La collezione Cartier Privé è limitata e esclusiva, il che significa che chi indossa un orologio di questa linea fa parte di un club selezionato. 5. Dettagli di prestigio, numeri romani stilizzati, lancette blu acciaio e una corona ornata da un cabochon di zaffiro sono dettagli distintivi che riflettono l'attenzione ai dettagli di Cartier. Unisciti al club esclusivo di chi indossa il Cartier Privé e immergiti nell'essenza dell'esclusività e dell'originalità nell'orologeria di lusso. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 7.